E' appena uscito un breve articolo sulla rivista libertaria Il Miglio Verde che parla dell'effetto cobra. Il governo e la moltiplicazione dei cobra. E' una storia vera riportata sui social da questo personaggio e tradotta da un libertario che si chiama Michele Guetta. La storiella è molto breve. Il governo britannico in India ha individuato un problema troppi cobra. La soluzione del governo era pagare le persone per ogni cobra ucciso e consegnato. Allora la gente ha iniziato ad allevare cobra in modo da trasformarli in denaro. Il governo lo capisce e abbandona il programma. A quel punto tutti gli allevatori di serpenti liberano i loro inutili cobra in natura. Ora il problema dei cobra è molto molto peggio dopo la cosiddetta soluzione del governo. Questo è noto come effetto cobra. Puoi analizzare qualsiasi soluzione che viene presentata da qualsiasi governo e vedere come si applica l'effetto cobra. Escludere il libero mercato da idee e soluzione dà sempre risultati disastrosi. Per questo motivo abbiamo uno stato di polizia, uno stato sociale, una guerra alla droga, una guerra al terrore, eccetera. Tutti esempi dell'effetto cobra.